Successo di pubblico doveva essere, così è stato, per il concerto dei Tiro Mancino a Crotone sul lungomare all'interno del cartellone estivo Crotone Summer 2023. La band, riduce dal disco del 2021, è attualmente in tour con Enula. Il gruppo, guidato da Federico Zampaglione, ha ripercorso tutti i successi cantati dal pubblico. Finalmente possiamo ricominciare a fare il nostro lavoro e a condividere con la gente la musica, insomma, dopo un po' di anni difficili. Preferiamo fare singoli perché interpreti più il momento che stai vivendo, se no devi mettere da parte i pezzi e magari farli uscire anni dopo. Invece è bello anche essere più estemporanei. Che impressione che Mazzone fa cantare nella città di Sergio Cammariere, ma anche di Rino Gaeta? Sergio è un amico, ci conosciamo dai primissimi anni 90, quindi abbiamo suonato anche tante volte insieme. Sono contento anche perché io sono di origini calabresi anch'io, mio nonno era di merito Porto Salvo, quindi è una terra che in qualche modo mi appartiene. Faccio tutte e due, però sono sempre fedele alla musica, che è la cosa insomma con la quale ho convissuto e convivo tutta la vita, per cui rimane sempre il primo amore. E viva la Calabria insomma. Certo, sempre. E mescolai lavoro con acqua addonica, poi pranzai tardi e allora nella cena. Viva un ser libro con una persona. Certo, sempre. Certo, sempre.